Open Design School di Matera 2019 è ospitato in Residence Design, un progetto che riguarda la cultura del design, intesa come processo che organizza risorse creative utili a generare idee di innovazione, ad esprimere soluzioni e trasmettere emozioni. In Residence Design ha presentato la dodicesima edizione del suo programma didattico formativo di workshop tematici nell'ambito di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Dal 25 al 28 luglio 2019, l'evento strutturato come importante contributo didattico formativo e di ricerca teorica al programma di attività promosse dalla Open Design School di Matera 2019, ha visto come protagonisti nel ruolo di tutor gli Zaven e Blondet, giovani designer noti nel panorama internazionale di settore. È interessante vedere come i ragazzi di diversi paesi vengono in un posto in cui non sono mai stati e in quattro giorni cercano di prendere suggestioni ovviamente che noi li portiamo da fuori, ma anche che vengono date dal luogo stesso, dalle loro camminate, dalle persone che abitano e visitano il luogo. Domenica 28 luglio, presso Area 8, a Matera, Barbara Brondi e Marco Reino hanno presentato la lettura di Zaven e Blondet dal titolo Geo Sincronicity. E Geo Sincronicity non poteva che essere svolto dal nostro punto di vista qui a Matera. In qualche modo sentiamo che Matera ha una qualità culturale così forte da determinare tutta una serie di cognizioni e di informazioni che per noi sono utilissime per portare avanti questo workshop. Come designer dobbiamo essere consapevoli del fatto e dell'impatto che noi abbiamo andando a creare e a produrre beni di consumo nella società. Quindi dobbiamo essere consapevoli di questo impatto andando ad analizzare quelli che sono tutti i cicli produttivi dei prodotti che noi facciamo, qual è l'impronta che noi lasciamo sull'ambiente. Grazie.